You're making good time, but stay sharp The magistrate has these roads locked down You'll rendezvous with reinforcements at the plant entrance Bella ragazzi, siamo in questo prossimo episodio di Timeshift Dobbiamo scappare In un certo senso, ahia, ahia No, che cazzo, ritorna qua Via, 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 via Non so dove sto andando Ahia, ahia, ahia No Si, vabbè, ciao Però ci sono anche quelli là in fondo In fondo Andai avanti Fanculo l'albero Se dai un quad non riesci a sfondare un albero Cipolls El si Il si L'albero 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 Tre L'albero Quay Tô Nguồn L'albero 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 An Carnival B L锡 Lcept L strap L'albero Dov'è? Lassù? Ardolo Tancolo Oh wow wow Stiamo calmati Vieni per favore Vaca boia queste Aia Sa una maneggevolezza questo Per poco Imbarazzante Questi Che croya E dai Questo non so Dov'è sbucato Caproia Adesso ci penso io Imbarazzante Aia Ma stiamo scherzando Ma si è abbassato la cosa Ma vabbè Immortale Ok 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 Dov'è sbucato Dov'è sbucato? Dov'è sbucato? Qua all'istante Ma con quale vita Perché esplodono i barili Ecco perché Guarda stavano già esplodendo Però è esploso il camion Una sua volta Ma di che cosa stiamo parlando ragazzi Eh non ho fatto in tempo Via 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 Eccoti Recupero munizioni Mi sembra il minimo Qua all'istante Adesso quando si Abbassa Andiamo Andremo a tutta velocità Non intendevo questo Ah da qui E dirlo prima Ma te n'affanculo Arta Oh no. se non vedo nulla ma cosa c'è la ma c'è la sentinella non ho capito guarda che lecce guarda 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 Ok Recuperiamo tutto E andiamo Sicuramente è morto Mi recupero un paio di Freccette E andiamo Vabbè il quad è stato distrutto Porca troia Stico Mi lasci proseguire Grazie Dassù devo andare Mi sa Aia Aia Se vabbè La capriola Che cazzo Sì Direttora Direttora Due Carai Ok Ne manca uno Che sarà Imboscato là Infatti Eccolo là Cavolo Vabbè Fammi andare a piedi Dove sono Tutte monizioni Questi Un molto interessante mi sento siamoci pronti cavolo no qua tutto bloccato eh quello sarà un una bella sfida buttarlo giù eh no le mine già che ci siamo aspetta che c'è uno là in fondo forse no 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 che c'è trovato bene come faccio a passare direttura direttura ah così ma quello è amico sì ma se proviamo a spararli quelli che cosa succede cioè tipo esplodono cazzo vabbè sarà per la prossima volta localizza eh ancora il campo minato che palle qua non si passa minaccia protetta porco porco sì vabbè ma guarda che pezzi sono lì eh anzi qua lì 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 vabbè lì mi stava lanciando una granata guarda si può essere più stronzi no io credo che sarebbe meglio stare qua in alto no non volevo vabbè comunque la granata l'ho persa lo stesso dove la vedete la minaccia occulta io non riesco a vederla oh ecco che cosa intende mine no stavolta non mi sfuggi forse l'ho colpito forse porco no veloce ecco qua occhio alle rane ok i nostri aliati sono lì ok si mo ci cazzo ovviamente occhio mortai mi sa eh fanculo bam ma chi è che c'è che ci sta sparando da dietro ci ma ci stanno sparando i nostri aliati per caso no no ok no 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 Bene! Unizione compi Guarda che ha sparato Guarda che Siamo arrivati! Ehi Poitman! Andate qui e riuscire il pietro! Sono venuto da quel bunker! Quindi deve avere un po' inizio al plato qua lì! Siamo copiati! Vai 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 vai! Che cavolo! Che cavolo! No! No! Si è... ...solescaldato! Cecchino! No! 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 Cos'è Cos'è il lanciafiamme? Ma che figata Sì, bellissimo Comunque noi dobbiamo andare qua, no? Occhio che questo è, sono cose esplosive, quindi occhio Ci siamo? Ah, ma sono anche proiettili incendiari Ah Ora capisco Si capiscono molte cose E si continua No, qua è chiuso Perché c'è niente E si capiscono Soltiore KIA Non ti ho scontato Il non è usato Il non è usato C'è un giro C'è un giro Ah 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 Proiettili incendiari amico Cazzo Occhio Dove siete? Venite fuori Granata Ciao Ah così Così tanto per Va bene ragazzi Allora dire che per questo episodio di Timeshift è tutto Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale Iscrivetevi se volete rimanere la giornata sui prossimi episodi di questo gioco E mettete un bel pollicino sull'episodio E condividete anche la vostra nei commenti Noi ci risentiamo con un prossimo episodio di Timeshift E vediamo che cosa succederà Bella